Mira dalla bandierina, di testa riceputi poi scapinello, la tocca soltanto Ljonna, vantaggio della solbiatese al decimo minuto. Siviero, il lancio per Romeo, attenzione a Lonardi, il pallone che passa, Cazzaniga, Cazzaniga, Sorrentino prova a contrastare, poi Cazzaniga riesce ad andare al tiro, non crea però particolari problemi a Seitai. Mira, il pallone in mezzo, Torraca prolunga e poi Lonardi con la coscia, manda alto, Cannizzaro, cerca Romeo, ma il pallone troppo debole recupera scapinello che cerca subito Torraca, Ljonna rischia tantissimo l'estremo difensore, Torraca, Torraca, Torraca la finta, non arriva il sinistro. Poi arriva il fischio dell'arbitro, che tira fuori anche il cartellino giallo, credo indirizzato a Torraca. Gomez, il pallone in aria di rigore, ha colpito Cappanera fuori di poco. Sivo in questa partita, troppo poco, perdono. Cazzaniga, le finte di Cazzaniga. Galimberti alza il campanile, Cappanera e che parata di Seitai. Poi insiste Adamo, Cazzaniga ma c'è fuori gioco di Adamo di Cazzaniga. Deve difendere il pallone dall'attacco di Mira, che tocca ma serve involontariamente De Petri. Il cross in mezzo, la girata al golo di Romeo Seitai, con la presa sicura. Manfred, Scapinello. Prova ad andare sul sinistro, bravo De Petri nell'intuire le intenzioni dell'avversario. Ripartenza base, Romeo. Cazzaniga, punta Lonardi. Cazzaniga va sul destro, Cazzaniga. Limite dell'aria per De Petri che si stima al pallone. Va al sinistro, la manona di Seitai. Ancora una volta. Sata ha mandato fuori causa del difensore. Se avesse sterzato ancora, probabilmente si sarebbe messo in una posizione migliore per provare la conclusione. Recupera il pallone, Cazzaniga, Cazzaniga. Il testo basso! Sfiora soltanto il secondo palo. Gentino raccoglie il pallone Carraro. Carraro prova a rimetterlo in mezzo. Di testa Manfred, traiettoria che si impenna. Cappa nera, poi riboldi. L'appoggio per Adamo! Il pareggio del base a 5 minuti dal termine. 1-1. All'avviso per Locati. All'avviso. Manfred, Mondoni, Mondoni. Va al sinistro! Ljonna con la respinta, poi ricevuti in posizione regolare. I mezzo! Di nuovo in vantaggio alla Solviatese. Il gol è di Locati. 2-1. Giordano. All'avviso perсяgare il器are il pote. Giordano. Grazie.